Ciao Ninetti, bentornati in un nuovo video in cui scopriamo qualche crezioncina in resina era davvero tantissimo tempo che non colavo la resina, mi mancava, devo dire la verità che mi mancava un bel po' e quindi adesso voglio scoprire un po' di cose con voi in realtà la colata in sé è nata per queste due crezioncine che ci sono qui dentro che dovevo colare nella resina, che dovevo inglobare nella resina già un sacco di tempo fa quindi le vediamo alla fine, ma insomma alla fine tra una cosa e un'altra non le ho più colate e finalmente ci sono riuscite e poi ho fatto qualche nuovo, tu non c'entri niente qualche nuovo esperimento per vedere se è qualcosa, insomma potrà venire bene iniziamo dalle gemmine piccole piccole, che in realtà la resina di questo colore ma in generale un po' tutta la resina, ma soprattutto questa, non è tipo, non si è asciugata benissimo e siccome è una vita che io non uso la resina adesso, cioè sono passate un po' di mesi oh che carine, perché poi ci ho messo il pigmento su, che carina, mi piace un sacco c'è lo scarto, ma mi piace veramente tantissimo questo stampo comunque dicevo, non so se ho sbagliato qualcosa o vi giuro, non lo so se fa troppo freddo perché ora vedremo se finiranno di catalizzare vabbè, nel frattempo sono ancora un po' morbide vediamo un pochino come sono venuti tutti gli altri no vabbè, mi piace tantissimo questo stampo con queste mini gemmine che carine, mi piace tantissimo tadan, eccole qui tette insieme poi di questo stampo voglio uscire queste perché erano degli scarti e io li ho messi dentro semplicemente infatti non hanno granché, sono soltanto degli scartini però sono, vedete, sono proprio molli molli vabbè, non so perché poi c'è questo qui, anche perché volevo provare a vedere come fosse poi lo stampo oh, adoro, adoro questa forma mi piace tantissimo sembra una gemmina diametista, non lo so poi io ci avevo messo dentro questi glitterini che sono troppo belli ho diminuito un po' la luminosità perché era troppo forte e non si vedeva bene tutto l'effetto bellissimo che fanno guardate che carini brilla tantissimo mi piace questo stampo, devo dire che mi piace davvero tanto poi ce n'è uno uguale semplicemente più più piccolina ancora anche questa è molto molto bella è soltanto tanto profonda ma per inglobarci magari dei fiorellini o delle cose è davvero carina ok, questi appunto sono scartini poi anche qui c'è uno scarto e infatti non è venuto niente di che perché ci avevo messo anche della vera di acqua ma è finito dietro, il pigmento è finito davanti e quindi non si vede più niente assolutamente vabbè poi dopo vedremo questi qua per ultimi poi sempre con il bronzo che me ne era rimasto davvero tanto di scarto ho fatto questa qui che mi piace tantissimo e si può sempre modificare poi con altri colori oh è bellissima mi piace veramente tantissimo questa qua è troppo troppo carina si possono fare un sacco di cose si possono fare le collane a più a giro collo insomma è davvero tanto e tanto carina mi piace un sacco poi adesso essendo morbida si potrebbe anche modellare un pochino però è davvero super super carina mi piace tantissimo sempre con quel pigmento viola che io poi l'ho fatto giusto perché volevo provare qualche mix avevo fatto questa base che però io non so se riusciremo a tirar via perché appunto è troppo morbido questo mix che avevo fatto non so veramente cos'è successo alla resina vabbè andiamo a vedere com'è venuta oddio è super morbida sembra una caramella gommosa però devo dire che non è neanche venuta male sarebbe da lucidare per far venire fuori tutti questi giochi di luce però non è neanche male male non lo so voi che ne dite vi piace? sinceramente io non so non riesco a capire se mi piace poi 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 in realtà quelle che voglio assolutamente vedere sono queste qui perché hanno il doppio colore a bronzo e verde acqua che mi piace tantissimo e sono super curiosa di vedere se sono tutte bene per farci magari qualche creazione su oh no vabbè wow questa è bellissima che bella no vabbè mi piace da morire questa poi su opaco questo verde acqua che in realtà è il mio verde acqua preferito del momento ed è questo qui che trovate dalle bimbi della Stylife Marker Refill che in realtà è un refill per un marker però appunto un colorante ad alcol ed è il 606 Turquoise Green Light è veramente il mio preferito del momento mi piace tantissimo su opaco poi è troppo bello quanto è marino tutto ciò che da dietro si vedono tutte queste cosine di bronzo vedete il pigmento che è finito dietro e mi piace ancora di più infatti non vedo proprio l'ora con questo ci farò sicuramente qualcosa perché mi piace veramente tanto 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 è proprio carina oh qualche idea ce l'ho qualche ho un po' di idee insomma qualche idea tra l'altro sto rivalutando tantissimo questa base qui perché non la utilizzavo da un sacco di tempo e in realtà mi piace tantissimo molto più di altre che ho perché è molto più piccolina quindi la sto rivalutando poi lo stesso colore stesso effetto l'ho fatto su questa qui che ormai lo sapete è una tra le mie preferite di sempre quindi negli anni negli anni vediamo un pochino com'è venuta anche questa perché è anche opaca oddio sì sì mi piace da morire no vabbè l'adoro l'adoro tantissimo mi piace da morire questa cosa che è tra il bronzo della cornice perché non lo so è come se la cornice in realtà fosse rotta e stesse sott'acqua quindi c'è l'acqua non lo so ragazzi non so come come spiegarvi per adesso l'idea che ho in mente ma mi piace da morire veramente tantissimo troppo 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 carina mi piace un sacco non vedo l'ora di crearci su qualcosina guardate che belle insieme no vabbè mi piace veramente tantissimo ecco ho fatto bene a collare la resina anche solo per questi non so se ve lo ricordate questa è i tempi dei primi stampi per resina era la mia base preferita infatti di questi stampi ne ho tantissimi ma poi nel tempo è andata un po' a scemare però ho detto ma ridiamole una possibilità la mia base preferita oddio quanto sei bello vabbè no vabbè ho fatto benissimo a darle una possibilità è troppo bella qui il verdeacqua è più trasparente perché lo stampo non è opaco insomma è abbastanza nuovo ancora questo è uno di quelli più nuovi ma quanto è bella no vabbè mi piace tantissimo veramente veramente tantissimo una collezione qua sopra molto molto presto perché mi piace veramente tantissimo diciamo che tra un pezzo e l'altro della collezione della luna perché mi ispirano cose marine insomma quindi no vabbè ma guardate che bella questa parte la parte qui mi piace tantissimo che carina veramente mi piace tanto 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 sono veramente troppo contenta e ragazzi siamo già giunti al termine vabbè erano poche creazioni quindi ok e andiamo a tirar via queste due ghesche all'interno ho inglobato i fiorellini quindi sono anche curiosa di vedere se ho fatto bene se appunto si inglobano così gli stickers speriamo sia venuto tutto bene mamma mia ok pronti oh che carina no vabbè carina mi piace tantissimo com'è venuta ok sono riuscita ad inglobare gli stickers quindi per bene devo dire ok lì sopra purtroppo è venuta una microbolla che non è dentro ah no è questa qui dietro che si riflette mi sa ok quindi qua la posso riempire tranquillamente non si vedrà più ma quanto è carina mi piace tantissimo è molto 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 carina mi piace davvero tanto qui c'era un fiorellino che però vedete si è spostato o meglio si è girato però non è neanche male in realtà si vede da questo lato ed è davvero tanto tanto carina mi piace tantissimo e poi vorrei lavorare anche ovviamente con alcune cose intorno quindi poi presto ve le farò vedere le finite che carina mi piace davvero un sacco ma ancora di più ho nutro grandi aspettative per questa qui in verde perché era la mia preferita tra le due anche prima quindi vediamo ok allora si mi piace anche questa parecchio anche qui purtroppo questo stickers si era girato e tra l'altro non me ne sono neanche accorta che si era girato così tanto infatti se lo vedete per così si vede che è un po' al contrario però vi ripeto vorrei metterci qualcosa da sopra magari dei ramoscelli non lo so e mi piace devo dire che mi piace anche qui quello che vedete è una fogliolina però è molto 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 carina a lei mi piace veramente tantissimo poi tra i fiori di ciliegio qui sopra e qui e questo qui sotto mi piace veramente tanto 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 sono molto molto contenta di come sono venuta devo essere sincera sono davvero contenta anche e soprattutto degli stampi perché si prestano veramente bene ad ingrobarci dentro le cose oltre al fatto che hanno questi tagli quasi a cristallo che a me piacciono sempre tanto ok quindi sono queste qui mi piacciono tanto che bello fatemi sapere qui sotto con un commento anche cosa ne pensate voi quale delle due vi piace di più bene Ninetti questo è stato tutto il video scopriamo di oggi sono davvero molto molto contenta anche se sono poche le cosine mi piacciono non avrò tanto beh a parte gli scarti in realtà anche a parte questa qui che non mi piace però questi qui quello e questi mi piacciono davvero tanto quindi sono davvero molto molto contenta vediamo nel prossimo video e vi mando un bacione gigantesco ciao Ninetti